Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Gli amori avvolti dall'ombra del true crime finiscono spesso in un vortice dove girano e rigirano gli inganni, il senso di possesso e agghiaccianti pericoli. E provare a gridare aiuto, purtroppo, non sempre significa avere una speranza di salvezza. È il 2016 e ci troviamo a Gateshead, una città della contea di Tyne and Ware, nel nord-est dell'Inghilterra. La protagonista di questo caso si chiama Alice Ruggles, ha 24 anni ed è originaria della contea di Leicestershire. Alice nasce il 24 dicembre del 1991 e cresce in un piccolo villaggio di nome Turlington. La sua famiglia è composta dai suoi genitori, che si chiamano Clive e Sue, dai suoi due fratelli Nick e Patrick e dalla sorella Emma. Alice è molto legata a tutti loro e vive un'infanzia felice. Anzi, ancora di più, si racconta che Alice sia proprio il collante che tiene unita la famiglia. I suoi cari la descrivono come un'intrattenitrice nata perché è impossibile annoiarsi quando ce l'hai nei paraggi. Infatti la ragazza è abile nel fare battute e scherzi, le piace far ridere le persone intorno a lei. Alice è arguta, frizzante, estroversa ed empatica. Infatti è circondata da amici ed è un'ottima ascoltatrice delle loro confidenze. Inoltre la ragazza ama le arti dello spettacolo, in particolare il canto. Per questo organizza delle serate karaoke con gli amici fin dall'età di 9 anni. E prende sempre parte ai concerti della scuola come membro del coro. Per quanto concerne lo sport, all'età di 11 anni Alice si iscrive a un corso di scherma, scoprendo di adorare questa disciplina sempre di più man mano che il tempo passa. Durante l'ultimo periodo della sua adolescenza, quando per Alice arriva il momento di scegliere l'università da frequentare, la ragazza verifica quale facoltà abbia una buona squadra di scherma a cui può unirsi. Alla fine opta per la Northumbria University a Newcastle, dove diventa proprio il capitano della squadra di scherma. Nel 2014 Alice si laurea in Ingegneria per il Design e si rende conto di non voler lasciare Newcastle. Qui ormai si sente a casa e desidera rimanerci per tentare di costruirsi una nuova vita. Inizialmente Alice lavora in vari bar, finché riesce a ottenere un promettente incarico presso la compagnia di radiodiffusione Sky. Alice eccelle nel suo mestiere, è così brava che le viene subito data una promozione, così diventa l'assistente personale del capo delle vendite e coordinatore del sito. Alice apprezza davvero molto la sua carriera e decide di cercare un posto più stabile in cui vivere. Insieme a una collega di nome Maxine, si stabilisce in un appartamento a piano terra di un edificio a Gateshead, dove si svolge il nostro caso. Dunque, la vita di Alice dal punto di vista professionale procede bene e verso la fine del 2015 anche la sua vita amorosa prende una svolta. È ottobre quando Alice parte per una vacanza in Sri Lanka con una delle sue migliori amiche, Jen. Durante il volo il passeggero che è seduto accanto ad Alice si interessa particolarmente a lei e non lo nasconde. Così la sua amica Jen posta su Facebook una foto di lei e Alice con scritto nella didascalia. Siamo in volo da dieci minuti e il ragazzo accanto ad Alice le ha già chiesto il suo numero di telefono. In realtà con il passeggero sconosciuto non succederà nulla, ma un altro ragazzo commenta il post pubblicato da Jen scrivendo non lo biasimo. In pratica non lo sorprende che qualcuno possa essersi preso una cotta per Alice quasi all'istante. Il nome di questo utente che commenta il post, amico su Facebook di Jen, è Triman Harry Dillon, da molti chiamato semplicemente Harry. Lui ha 26 anni dunque un paio d'anni più di Alice ed è originario dell'India. È figlio unico e suo padre lavora nell'esercito quindi la famiglia si è sempre spostata molto per seguirlo. Harry infine ha deciso di ricalcare le orme del padre e si è trasferito non lontano dalla sua famiglia, a Edimburgo, in Scozia, per frequentare l'università dove ha studiato gestione strategica. Dopo aver conseguito la laurea si è arruolato nell'esercito britannico e alla fine da soldato è diventato caporale. Sebbene viva Edimburgo dove si colloca la caserma a cui è assegnato nell'ottobre del 2015 quando lascia quel commento sotto il post di Jen, Harry è distanza in Afghanistan. Ma dovete sapere che il ragazzo non si limita il commento, infatti un paio di giorni dopo manda dei messaggi su Facebook a Jen per chiederle come sta. Poi ne approfitta per esprimere altri complimenti nei confronti di Alice, scrivendo che è bellissima. Da questo momento Alice e Harry si aggiungono su Facebook e iniziano a mandarsi messaggi in continuazione. Alice è al settimo cielo perché Harry è così galante e gentile con lei, ma anche divertente. Insomma, la ragazza si prende una bella cotta per lui, nonostante per ora abbiano parlato soltanto online. Harry prova le stesse sensazioni verso Alice, quindi sembra che i due ragazzi siano anime affini. Nelle settimane successive continuano a scambiarsi messaggi e si sentono costantemente su FaceTime. Nel giro di un mese arrivano a dirsi a vicenda che si amano, quindi decidono di iniziare una relazione, anche se non si sono ancora visti di persona. Il loro legame progredisce molto velocemente e a distanza di circa un paio di mesi dal primo messaggio scambiato, nel gennaio del 2016, Alice e Harry riescono finalmente a incontrarsi. Harry parte dall'Afghanistan e torna nel Regno Unito, trascorrendo circa una settimana con Alice a Newcastle. Poi è Alice che si sposta a Edimburgo per passare un'altra settimana insieme a Harry. Quindi in questi 15 giorni a stretto contatto, la scintilla che aveva brillato mentre i due si scambiavano i messaggi sembra essere presente tuttora, anzi, la sua luce si è fatta ancora più incandescente. Alice è davvero innamorata di Harry e lui le compra un sacco di regali, insieme fanno qualche gita fuori porta e poi, al termine di queste due settimane, Harry torna in Afghanistan per completare l'ultima tappa della sua missione. Quindi alla neocoppia tocca trascorrere un paio di mesi senza che possa rivedersi. Ma intanto Harry e Alice si tengono in contatto regolarmente, si iscrivono e si ritagliano sempre del tempo per parlare al telefono. Alice è felicissima al punto che dice a sua madre Sue che ne è certa. Harry è la sua anima gemella. Guardando le dinamiche di questo giovane amore da un punto di vista esterno, sembra che Harry e Alice abbiano instaurato una relazione perfetta. Ma dopo due mesi Harry torna dall'Afghanistan e sia gli amici che i familiari di Alice iniziano a notare alcuni cambiamenti nella personalità della ragazza. Come detto, Alice aveva sempre avuto un carattere frizzante e socievole, ma pare stia diventando molto più riservata. Anzi, distante. Inizia a parlare sempre meno con tutti i suoi cari. Ma non solo. In Alice si evidenziano anche dei cambiamenti di natura fisica. Infatti perde una notevole quantità di peso in un periodo di tempo relativamente breve, condizione che ovviamente preoccupa la sua famiglia. I cari di Alice intuiscono presto qual è la causa di questi stravolgimenti. O meglio, chi? Cioè il suo fidanzato Harry. Anche lui non è più lo stesso. Come detto, all'inizio della relazione stravedeva per Alice e le rivolgeva mille complimenti, la trattava come una principessa e le faceva tanti regali carini. Sembrava davvero il ragazzo perfetto, ma evidentemente era tutta una facciata. Harry si è comportato in modo così premuroso soltanto per attirare Alice a sé, ma ora che ha raggiunto il suo scopo, quello di condividere una relazione con lei, la sua maschera sta scivolando per rivelare una persona completamente diversa. Harry mostra dei comportamenti possessivi e la mania del controllo. Vuole sapere in continuazione dove e con chi si trovi Alice e ispeziona minuziosamente il suo cellulare. Se Alice parla con un altro uomo, Harry diventa immediatamente geloso e l'accusa di flirtare, anche se sta solo chiacchierando. Quando Alice esce con gli amici, se Harry non riesce a contattarla per più di dieci minuti, inizia ad assillare gli amici con cui la ragazza è uscita, chiedendo loro di dire ad Alice di rispondere al telefono. Come se non bastasse, Harry si infastidisce quando Alice si trucca o si veste particolarmente bene. Lo preoccupa chi appaia al meglio, chi altri uomini la guardino, perché ai suoi occhi Alice è sua, lei appartiene a lui. Così fa tutto il possibile per abbattere l'autostima di Alice, rivolgendo le commenti orribili sul suo aspetto. Ad esempio, in un'occasione le invia un messaggio in cui fa un commento inopportuno su quanto fossero pelosi i suoi avambracci, in una foto che lei aveva postato sui social. Harry poi dice che a lui non interessa se lei ha i peli sulle braccia, ma che probabilmente agli altri uomini non sarebbero piaciuti. In un'altra circostanza, invece, le dice che è grassa, sempre nell'intento di far sentire Alice meno sicura di sé, anzi direi proprio a disagio. Questo ovviamente è un'azione orribile perché lui è il suo ragazzo e dovrebbe farla sentire come se fosse la donna più bella del mondo. Invece la sta facendo sentire uno schifo e Alice purtroppo diventa sempre più insicura e sfiduciata e si chiude maggiormente nel suo guscio. Harry prova anche a far ingelosire Alice. Una volta, mentre sono in videochiamata su FaceTime, lui si toglie una lunga ciocchetta di capelli rimasta attaccata alla maglietta che indossa e la mostra ad Alice davanti alla telecamera. Vuole farle credere che abbia passato del tempo con un'altra ragazza e Alice ci casca. Quindi lo affronta, gli chiede spiegazioni e lui, allora, le fa gaslighting. Ovvero la manipola in modo subdolo e maligno, nega di aver preso in mano una ciocca di capelli, è lei che sta esagerando, che si è inventata questa storia di sana pianta, perché è pazza. Nel luglio del 2016 Alice, come da tradizione, va in vacanza con tutta la famiglia Ruggles, quindi con i suoi genitori e i suoi fratelli, in cornovaglia. Ma quest'anno c'è una novità, perché Alice porta con sé il suo fidanzato Harry. In questa occasione la sua famiglia ha conferma di quanto Alice sembri diversa e il motivo risiede sempre nel comportamento aggressivo e controllante a cui Harry l'ha sottoposta. Pochi giorni dopo la fine di questa vacanza, Alice, tornata a Gateshead, riceve un messaggio su Facebook da parte di una ragazza che non conosce. L'utente sconosciuta le scrive, ti rendi conto che il tuo ragazzo ti sta tradendo? È in questo momento che Alice scopre che Harry aveva inviato dei messaggi sia a questa ragazza che a molte altre, tramite delle app per appuntamenti come Tinder. Secondo alcune fonti, Harry si è addirittura incontrato con alcune di loro per consumare dei rapporti intimi occasionali. Dunque Harry fa sentire in colpa Alice anche solo per aver parlato con un altro uomo, mentre lui la tradisce ogni volta che ne ha l'opportunità. Per Alice questa è la goccia che fa traboccare il vaso, non può perdonare un inganno del genere, quindi mette immediatamente fine alla relazione. Dal canto suo, Harry Dillon si prepara a rendere questa rottura il più difficile possibile, perché non vuole che la storia finisca, nonostante quello che ha fatto non è disposto ad accettare che lei lo lasci. In pratica inizia a molestare Alice senza darle tregua. Le manda centinaia di messaggi implorandola di rimettersi con lui, le dice che la ama ancora e che non può vivere senza di lei. La chiama costantemente, le lascia innumerevoli messaggi in segreteria mentre si inghiozza e piange disperato, chiedendole un'altra opportunità. Questo schema si ripete quotidianamente. Ogni giorno i messaggi e le chiamate sembrano infiniti. Poi, quando Alice si rifiuta di ricominciare la relazione e decide di ignorare Harry, questi messaggi lagnosi di autocommiserazione assumono un tono minaccioso. Lui la intimidisce, le dice che avrebbe pubblicato delle sue foto intime. Alice si spaventa da morire quando legge di questi ricatti, nemmeno capisce a quali foto Harry si stia riferendo, perché lei non ricorda di averle mai scattate. Infatti emerge che lui l'aveva fotografata in intimità, di nascosto e aveva deciso di conservare il materiale. Harry infine minaccia anche di togliersi la vita. Dice che si ucciderà se Alice non tornerà con lui. Quando si rende conto che neanche questa tattica funziona, inizia a morire gli amici e la famiglia di Alice. Manda moltissimi messaggi pure a loro, implorandoli di convincere Alice a riappacificarsi con lui. Alice intanto blocca Harry su tutti i social media e blocca pure il suo numero di telefono. Ma Harry imperterrito acquista una nuova sim e rincomincia a scriverle di continuo. Riesce persino ad hackerare l'account di Alice su Facebook in modo da poter controllare a chi lei invii i messaggi e cosa stia facendo. Si scopre che quando ancora stavano insieme Harry aveva installato sul cellulare di Alice uno spyware, un tipo di software che raccoglie informazioni riguardanti l'attività online di un utente senza il suo consenso. Alice però è sveglia e si accorge che Harry le ha violato anche più di un account online. Così gli invia un messaggio chiedendogli di smetterla, di spiarla. Lui le risponde semplicemente no, non la smetterò. Così il fratello maggiore di Alice, Nick, l'aiuta a cancellare tutti i dati del telefono ripristinando le impostazioni di fabbrica. Cambiano tutte le password e Alice disattiva l'account Facebook che Harry le ha hackerato e poi crea un nuovo profilo. Dunque per Harry diventa sempre più difficile attirare l'attenzione di Alice tramite gli sms ai social. Così decide direttamente di partire da Edimburgo per recarsi a Gateshead dove vive la ragazza. In diverse occasioni compie questo viaggio di circa due ore e mezza solo nella speranza di vedere Alice e di riuscire a convincerla a tornare con lui. Quindi ora non la sta molestando soltanto online ma la sta anche perseguitando fisicamente. Harry non ha alcuna intenzione di lasciare in pace la sua ex. È furioso perché lei si rifiuta di parlargli e di rimettersi con lui. Più questa situazione va avanti più Harry si infuria, fa pensieri del tipo Alice come osa ignorarmi in questo modo? Come osa rifiutare le mie avance? Alice però non ha la piena consapevolezza che questi comportamenti ossessivi non sono nuovi a Harry. Infatti in passato il ragazzo aveva rivolto molestie e persecuzioni anche ad altre sue ex. Non a caso la ragazza che era stata con lui prima di Alice aveva deciso di avviare un ordine restrittivo nei suoi confronti. Questo è accaduto tre anni prima del verificarsi del caso di Alice. Quando anche la precedente ex di Harry si era rifiutata di tornare insieme a lui e aveva iniziato a frequentare un altro, Harry le si era avvicinato per strada e le aveva sputato in faccia. È chiaro che Harry non riesce a tollerare il rifiuto, non sopporta che le donne lo respingano. Così quando scopre che anche Alice sta frequentando un altro ragazzo, la sua mente va in tilt. Nel settembre del 2016 Alice parte per trascorrere un weekend in Germania dove al momento vive sua sorella Emma. Mentre si trova lì Alice incontra un ragazzo di nome Mike, un ufficiale dell'esercito amico di sua sorella. I due vanno subito d'accordo, si piacciono e iniziano a frequentarsi. Ma Harry lo scopre. Rabbioso prova a mettersi in contatto con Mike, rintraccia al suo account Facebook e gli scrive che Alice è ancora innamorata di lui, che loro due si vedono tuttora, quindi lei lo sta tradendo. Mike però sa bene che queste sono tutte falsità perché Alice gli ha già parlato di Harry, lo ha avvertito di tutti gli abusi a cui lui la sottopone. Quando settembre è quasi agli sgoccioli, Harry sta ancora molto perseguitando Alice. Lei spera che se continua a ignorarlo, lui prima o poi si stuferà, che perderà interesse. A quel punto lei sarà finalmente libera di godersi la propria vita senza questa opprimente presenza quotidiana. Però passano altri giorni e le cose in realtà non stanno migliorando. Anzi, Harry sembra addirittura più ostinato. Il 30 settembre del 2016, Harry lascia l'ennesimo messaggio vocale alla segreteria di Alice, pregandola di richiamarlo. Alice, come spiegato, non gli dà alcun segnale, allora Harry guida di nuovo da Edimburgo a Gateshead. Arriva a destinazione in serata mentre Alice è nel suo appartamento. Harry suona il campanello e subito dopo decide di nascondersi. Quindi Alice guarda attraverso lo spioncino della porta e non vede nessuno, per cui non apre. A distanza di un paio di minuti, Harry esce dal suo nascondiglio e risuona il campanello per poi correre a nascondersi ancora. Sta chiaramente cercando di spaventare il più possibile la sua ex. Continua a suonare il campanello e a nascondersi per un paio d'ore. Infine, più tardi quella notte, quando Alice è a letto, qualcuno bussa all'improvviso alla finestra della sua camera. Alice si alza nervosa, apre immediatamente le tende, guarda fuori e vede Harry che la sta fissando. Ha scavalcato la recinzione per raggiungere la finestra della sua camera da letto. Harry rimane a fissarla per qualche minuto, poi appoggia dei fiori e dei cioccolatini sul davanzare della finestra, indietreggia e si allontana. Nella sua mente, a dir poco delirante, con questa mossa invadente pensa di poter riconquistare Alice, che invece diventa soltanto più ansiosa e spaventata. Mentre, a notte fonda, Harry si rimette in macchina e guida verso Edimburgo, chiama nuovamente Alice, che continua a non rispondergli. Quindi le lascia all'ennesimo messaggio vocale in segreteria, in cui lei dice, non ho intenzione di ucciderti. Deve essere stato terrificante per Alice ascoltare questo messaggio, perché dirle una cosa del genere? Davvero c'è da discutere di omicidio? Alice non ce la fa proprio più, così prende immediatamente il telefono e racconta ai suoi amici ciò che è accaduto poco prima. Tutti la esortano ad andare dalla polizia, è ora di denunciare le azioni di Harry. Alice dà ascolto i suoi amici, perché capisce che non ha altra scelta. Così chiama l'101, il numero per le segnalazioni che non richiedono un intervento d'urgenza. Spiega che ha bisogno di essere consigliata, perché ha lasciato il suo ragazzo da circa tre mesi, ma da allora lui ha violato il suo profilo Facebook, il suo telefono e le ha inviato centinaia di messaggi insistenti. Anche se lei gli ha chiesto di non contattarla più, lui non ha mai smesso di scriverle. Infine, racconta l'episodio di quella notte. Qualcuno ha bussato di continuo alla sua porta per poi nascondersi ogni volta che lei si è avvicinata per controllare chi fosse. E più tardi, quando è andata a letto, Harry ha bussato alla finestra della sua camera, posta sul retro di un appartamento al piano terra. Ha lasciato dei fiori e dei cioccolatini sul davanzale e se n'è andato. Non ha fatto niente di aggressivo, sottolinea Alice, ma sia lei che i suoi amici sono davvero scossi e preoccupati. L'ufficiale con cui dialoga però, riferendosi alle azioni di Harry, le risponde, beh, questa possiamo definirla una mole... Infine, suggerisce alla ragazza due opzioni. Può assumere un avvocato ed emettere un'ingiunzione nei confronti di Harry, operazione che può risultare molto costosa, oppure puoi mettere un PIN, Police Information Notice, ovvero un avviso informativo alla polizia. Dopo questa segnalazione di accuse di molestia, la polizia raggiunge il molestatore e gli rivolge un avvertimento verbale. Se non interrompe il suo comportamento, verrà arrestato. Alice decide di optare per l'avviso informativo alla polizia e, in seguita a questa scelta, si sente meglio, crede che finalmente questa orribile situazione avrà una fine, che potrà tornare a respirare aria pulita. Harry, minacciato dal resto, di certo lascerà in pace sia lei che i suoi amici, i suoi colleghi e la sua famiglia. Tutti si accorgono che Alice ora è più tranquilla, sta tornando quella di prima e di nuovo brillante, frizzante e si cura di sé dopo tanto tempo. Ma purtroppo questa tranquillità non dura a lungo, perché Harry non ha alcuna intenzione di lasciarla in pace. Viene informato che Alice ha emesso un pin contro di lui, ma stranamente lo scopre tramite il suo superiore dell'esercito, non dalla polizia. La polizia, infatti, ha contattato la caserma a Edimburgo, presso la quale il ragazzo vive e lavora. Trovo strano che la polizia abbia riferito questa questione al suo superiore, senza contattare direttamente Harry. Insomma, mi risulta che vada contro i protocolli da seguire. Fatemi sapere se anche voi sapete qualcosa di più riguardo questo. In ogni caso, Harry non importa molto dell'avviso ricevuto, infatti, nel giro di una settimana, spedisce ad Alice un grande pacco che contiene le foto di loro due scattate mentre stavano insieme, un quadro che Alice gli aveva regalato in precedenza, una lunga lettera di cui vi leggo una parte. Sono nei guai, spero tu ti senta felice ora, so che sei più forte, so che sei felice, so che sei andata avanti, so che hai un nuovo ragazzo, ma non riesco a dirti addio. Ti mando tutto ciò che è in mio possesso che mi ricorda a te, siccome appartieni a un altro uomo. Vi auguro una vita felice. Penso che quest'ultima frase, che Violetto, chiarisca ulteriormente l'ottica in cui Harry inquadra non solo Alice, ma tutte le donne. Scrive, tu appartieni a un altro uomo, come se lei fosse una proprietà, non un essere umano, ma un oggetto trasferito da una mano all'altra. Come immaginerete, questa ennesima mossa di Harry rappresenta una violazione dell'avviso informativo alla polizia. Siccome lui ha contattato Alice, lei ricontatta la polizia il 7 ottobre, circa una settimana dopo la sua prima chiamata. A seguito della sua prima segnalazione, Alice si era sentita piuttosto sollevata. La rassicurava a pensare che la polizia avrebbe agito in sua difesa, qualora Harry avesse violato l'avviso. Eppure, dopo la seconda chiamata, Alice è in crisi, in quanto la gente con cui ha parlato l'ha fatta sentire come se lei fosse una seccatura. In sostanza, le ha fatto intendere che il motivo della sua chiamata è stupido. Infatti, stando a quanto riporta un documentario che ho visto, l'ufficiale dice ad Alice cosa ti aspetti che facciamo al riguardo? Che lo arrestiamo? Alice, dopo aver sentito questa frase, è comprensibilmente sconvolta. Infatti, al termine della chiamata, manda un messaggio a sua sorella dove scrive. Non mi stanno aiutando. Faranno qualcosa una volta che mi avrà pugnalata. Riuscite a immaginare come possa sentirsi Alice dopo questi risvolti? Probabilmente il senso di delusione, di abbandono e di terrore la sta investendo, perché la polizia non sembra avere alcuna intenzione di intervenire per tenerla al sicuro dal suo persecutore. Se la polizia avesse tutelato davvero Alice, probabilmente Harry non avrebbe potuto compiere le azioni di cui si è macchiato in seguito. È il 12 ottobre 2016, sono passati cinque giorni dalla seconda telefonata di Alice alla polizia e lei quel giorno sta lavorando, come al solito, nell'ufficio di Sky, a Newcastle. Una volta terminato il suo turno intorno alle 17.30, come sempre c'è qualche collega che l'accompagna a casa nel suo appartamento a Gateshead. Questa è una precauzione presa nell'ultimo periodo, perché tutti sanno che Alice è vittima di stalking e molestia da parte del suo ex fidanzato. Ormai è tardo pomeriggio e Alice si trova nella sua abitazione da sola, perché la collega con cui divide l'appartamento, Maxine, è fuori. Inizialmente pare che Alice se ne stia in tranquillità, manda qualche messaggio a Mike, il ragazzo che sta frequentando, per chi hanno intenzione di vedersi tra qualche giorno, quindi stanno decidendo cosa fare per l'occasione. Ma, di punto in bianco, Alice smette di rispondere ai messaggi di Mike, ed è la sua coinquilina, Maxine, a scoprire il perché. Maxine torna nell'appartamento intorno alle 18.30, quindi circa un'ora dopo il rientro di Alice, ma non può accedervi dalla porta principale perché non ha le chiami con sé. Maxine prova a chiamare Alice per chiederle di aprire la porta e dunque permetterle di entrare, ma non ottiene risposta. Allora Maxine si sposta sul retro e nota che la finestra della camera di Alice è aperta, così la attraversa e si immette nella stanza. A questo punto si guarda intorno e nota che l'anta dell'armadio di Alice è staccata, il che le risulta strano. Ma soprattutto, dove è Alice? Maxine non la individua né la percepisce da nessun'altra parte nell'appartamento, ma poi entra nel bagno e si imbatti in una scena terrificante. La sua coinquilina, Alice Ruggles, è distesa esanime sul pavimento, ricoperta di sangue. La ragazza è stata pugnalata al collo, è stata chiaramente vittima di un attacco feroce e brutale. Maxine, investita dal panico, chiama il 999 e dice sconvolta all'operatore che Alice è morta e sembra che sia stata aggredita. Poi Maxine esclama queste esatte parole. Sapevo che sarebbe successo perché il suo ex è un vero e proprio psicopatico. Quindi all'amica è bastato vedere il corpo senza vita di Alice per intuire chi l'ha uccisa. Il colpevole è Harry Dillon. I servizi di emergenza accorrono a casa di Alice e Maxine, ma purtroppo non c'è nulla da fare. Alice viene dichiarata morta sulla scena del crimine. Mentre alcuni agenti vanno a informare la sua famiglia del tragico evento, altri si dirigono a prelevare il principale sospettato dell'omicidio, suggerito proprio da Maxine. Harry Dillon viene arrestato a Edimburgo appena un paio d'ore dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Alice. Lo portano a Newcastle dove viene interrogato dalla polizia. Harry nega immediatamente di aver avuto alcun ruolo nel delitto di Alice. All'inizio cerca di mostrarsi completamente scioccato dalla notizia della sua morte, provando a reagire come se stesse scoprendo un tale dramma soltanto adesso. Harry afferma di essere rimasto a Edimburgo per tutta la notte e quindi, stando alla sua prima versione dei fatti, non poteva essersi nemmeno avvicinato all'appartamento della sua ex, Alice. La polizia però ha già raccolto diverse prove, le quali dimostrano che Harry sta mentendo. I tabulati telefonici del suo cellulare rivelano che quella sera, in realtà, lui si è recato a Gateshead per poi andare via verso le 18.30, pochi minuti prima che il corpo di Alice fosse scoperto da Maxine. Inoltre, alcune telecamere a circuito chiuso riprendono la sua macchina proprio a Gateshead. Davanti a queste evidenze, Harry è costretto a cambiare la sua versione dei fatti. Così ne racconta una nuova. Ammette che il giorno della morte di Alice, il 12 ottobre, è andato a Gateshead da Edimburgo, quindi ha affrontato un viaggio di due ore e mezza, soltanto perché desiderava parlare un po' con Alice. Lei però ha minacciato di chiamare la polizia, allora lui ha deciso di andarsene. Quella è l'ultima volta in cui l'avrebbero vista, afferma che era sana e in salute, quindi qualcun altro deve averla uccisa dopo che lui si è allontanato. Ovviamente gli investigatori non gli credono nemmeno per un minuto e presto ottengono le prove per dimostrarlo. Prima di tutto scoprono delle tracce di sangue di Alice nell'auto di Harry e su un braccialetto che lui indossa, quindi come può dire di non avere nulla a che fare con la sua morte? Ma non è finita qui perché il DNA di Harry viene trovato sotto le unghie di Alice, a dimostrazione che lei aveva cercato di graffiarlo per difendersi e allontanarlo da sé. Così il giorno successivo all'omicidio di Alice, Harry viene accusato di essere il suo assassino, ma lui si dichiara non colpevole e quindi viene processato a Newcastle nell'aprile del 2017. Harry in vista del processo cambia ancora una volta e completamente la sua versione dei fatti e vi assicuro che questa nuova storia da lui inventata è assolutamente folle. Ora, Harry afferma che era presente al momento della morte di Alice, ma non l'aveva uccisa lui. In realtà lei si era tolta la vita davanti a lui. Racconta che quella notte era andato a casa di Alice per recuperare alcuni dei suoi vestiti lasciati da lei in precedenza, quando erano ancora fidanzati. Mentre si trovavano insieme nell'appartamento, Alice però aveva preso un coltello dalla cucina e aveva cercato di aggredirlo. Lui aveva tentato di difendersi e di spingere Alice, quindi era cominciata una lotta tra loro. E proprio durante questo tafferuglio, in qualche modo, Alice si era affondata il coltello nel collo. Questa nuova versione dell'imputato è a dir poco irrealistica e l'accusa presenta alla giuria la propria versione dei fatti sulla base delle prove raccolte. L'accusa spiega che Harry è un uomo violento, ricostruisce nel dettaglio ogni sua azione intrapresa ai danni di Alice nei mesi precedenti alla sua morte, tutti gli abbi a cui la vittima è stata sottoposta, le molestie, lo stalking. Sostiene anche che il suo omicidio, agli occhi di Harry, equivale a un gioco di potere dominato dal desiderio di possesso. Si può riassumere nella frase a cui spesso facciamo riferimento trattando casi del genere. Se io non posso averti, allora non ti avrà nessun altro. Nella mente contorta di Harry e Alice gli apparteneva, quindi ha perso completamente la testa quando lei si è rifiutata di tornare con lui, quando ha iniziato a frequentare un altro uomo e quando ha addirittura chiamato la polizia in cerca di protezione. Per vendetta Harry ha deciso di ucciderla brutalmente. La sera del 12 ottobre, come sappiamo, Harry ha guidato da Edimburgo a Gateshead, intraprendendo il solito viaggio in macchina durato due ore e mezza. Mai, nemmeno una volta durante questo lungo tragitto, Harry ha cambiato idea, rinunciando a compiere un simile crimine. Una volta arrivato a destinazione, Harry ha parcheggiato la macchina vicino all'appartamento di Alice e ha aspettato che lei tornasse a casa dal lavoro. Quando l'ha vista arrivare ed entrare in casa, è rimasto ad aspettare in macchina ancora per un po'. Poi è sceso dalla sua auto, si è introdotto nell'abitazione attraverso la finestra aperta della camera di Alice. Si ritiene che la lotta tra i due sia avvenuta proprio all'interno di questa stanza, ecco perché l'anta dell'armadio della ragazza era staccata dai cardini. Forse Harry l'aveva tirata via con l'intenzione di usarla come arma per aggredire Alice. L'accusa ritiene che Alice, in preda al panico, fosse corsa a rifugiarsi in bagno serrando la porta. Allora Harry era andato in cucina, aveva afferrato un coltello e poi l'aveva raggiunta. Aveva preso a calci la porta, come testimoniano le impronte delle suole delle sue scarpe rimaste lì sopra. Era riuscito a sfondarla e una volta entrato nel bagno aveva aggredito Alice con il coltello, pugnalandola al collo ripetutamente. Nello specifico le ha procurato sei tagli alla gola. Siccome Alice riportava moltiplici lividi sulla schiena, la polizia ha teorizzato che fosse quello il punto in cui Harry l'aveva caricata con tutto il suo peso per costringerla con la faccia a terra. Poi prendendola per i capelli le aveva tirato la testa all'indietro e a questo punto aveva iniziato a tagliuzzarle la gola. Pensare a quanto fosse terrorizzata Alice in quel momento mi infonde una tristezza davvero profonda. Probabilmente lei sapeva che stava per morire per mano dell'uomo che la perseguitava da mesi. Lo stesso uomo che lei aveva denunciato in vano alla polizia. Dopo averla uccisa Harry aveva lasciato il suo corpo inzuppato di sangue sul pavimento del bagno, era uscito dall'appartamento ed era tornato a Edimburgo come se nulla fosse successo. Il processo contro Harry dura poco, 11 giorni per l'esattezza. Alla fine l'imputato viene dichiarato colpevole dell'omicidio di Alice Ruggles e condannato all'ergastolo con un minimo di 22 anni. Questo significa che non prima del 2038 avrà diritto a richiedere la libertà condizionale. In seguito a questo caso viene avviata ovviamente una revisione per omicidio domestico sulla morte di Alice. Comprensibilmente la polizia di Northumbria è oggetto di forti critiche per le modalità con cui ha gestito le denunce di Alice nel periodo precedente alla sua morte. Sappiamo che lei aveva contattato la polizia in due occasioni, la prima volta a poco meno di due settimane dal delitto, la seconda volta appena cinque giorni prima che venisse uccisa. Quindi l'ufficio indipendente per la condotta della polizia avvia un'indagine al seguito della quale due agenti devono affrontare un provvedimento disciplinare per cattiva condotta. Sono colpevoli di non aver indagato adeguatamente sul reato di stalking messo in atto da Harry e di non averlo nemmeno registrato come stalker quando Alice lo aveva denunciato. Vi ricordo infatti che durante la prima chiamata della ragazza la gente che le aveva risposto aveva identificato il comportamento di Harry come una molempia e non come uno stalking. Ovviamente c'è una grossa differenza tra questi due crimini, non sono sovrapponibili, non sono la stessa cosa. Lo stalking è molto più aggressivo e implacabile, esattamente come i comportamenti perpetrati da Harry e Dylan. Se le autorità avessero fatto di più, se avessero agito per tenere davvero Alice al sicuro da lui, probabilmente questa giovane donna oggi sarebbe ancora viva. A seguito di questi rapporti viene stabilito che ci sono delle lacune nell'ambito della formazione delle forze di polizia, per quanto concerne la gestione dei casi di stalking. Non c'è un'adeguata comprensione di cosa sia lo stalking e di come si manifesti. A discapito di Alice, la polizia deve trarre una lezione dalla sua ingiusta e infelice storia. Si spera quantomeno che funga da esempio per migliorare la gestione dei casi simili in futuro, per evitare che episodi del genere vengono sottovalutati di nuovo. In conclusione, la revisione degli omicidi domestici produce 20 raccomandazioni rivolte agli enti nazionali, regionali e locali per contribuire a prevenire il verificarsi di casi simili. Dopodiché diverse forze di polizia hanno iniziato a recepire e fornire informazioni aggiornate. Viene istruita una nuova modalità di formazione e previsto un nuovo protocollo, in modo che la polizia disponga di maggiori conoscenze su come affrontare adeguatamente i futuri casi di stalking e molestie. Intanto anche i familiari di Alice Ruggles svolgono un ruolo importante nell'educare le persone, soprattutto le giovani donne, alla comprensione degli atti di stalking e molestie. Infatti, dopo la sua morte, hanno fondato il The Alice Ruggles Trust. La missione dell'associazione è quella di diffondere la consapevolezza sullo stalking e sul controllo coercitivo. Fornisce quindi formazione e istruzione e si batte per l'adozione di misure legali corrette, in modo che le vittime di stalking ricevano effettivamente l'aiuto di cui hanno bisogno. Il lavoro che svolge il Trust è semplicemente incredibile ed è tutto a nome di Alice. Concludiamo così il caso di Alice Ruggles, un'altra vicenda straziante. Purtroppo su questo canale ormai le storie come queste sono diventate fin troppo ricorrenti. Davvero, ce ne sono troppe. Ho trattato tanti casi in cui delle giovani donne vengono brutalmente uccise per mano dei loro ex partner. Nonostante abbiano fatto quello che si chiede ostinatamente di fare alle donne vittime di violenza, cioè denunciare. Alice l'ha fatto, ha preso il telefono e ha chiamato la polizia. Ha denunciato, ma a nulla è servito. Alice non ha ricevuto alcun aiuto o supporto. Oggi vi ho parlato di un'altra morte annunciata, di un'altra vittima che poteva e doveva essere salvata. L'epilogo di questo caso è molto amareggiante. E non ci rimane che sperare che, quantomeno, situazioni come queste servono a imparare davvero dagli errori commessi. Possiamo soltanto augurarci che la polizia si faccia maggiori scrupoli in futuro, agendo preventivamente e mettendo al sicuro le donne vittime di stalking come Alice. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate di questo caso, se già lo conoscevate. Io no, e onestamente quando vengo a conoscenza di questi casi ci rimango sempre male perché mi rendo conto che sono davvero troppi. Sono troppi. Ed è assurda questa cosa. Sono anche troppi casi in cui la polizia lavora male. Questo trend onestamente mi spaventa perché se una ragazza che è perseguitata, che è d'aiuto alla polizia e non riceve quell'aiuto da lei chiesto, come fa? Letteralmente io mi chiedo cosa deve fare? Deve farsi giustizia da sola? Deve prendere un'arma e sparare al suo stalker prima che lui faccia del male a lei? È triste perché questi casi non hanno una soluzione reale se la polizia non agisce come dovrebbe. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti!